L'idea è nata da un gruppo di persone impegnate sul territorio di Rimini che per una qualche ragione si è trovata a contatto con persone provenienti dalla Siria o si è trovata a riflettere appunto sulla situazione siriana del momento, quindi questo è il nesso. In particolare diciamo che l'idea di fare un festival così lungo e articolato è nato da un gruppo di Torino, poi appunto un volontario che è stato nei campi profughi ha riportato l'idea qua in Romagna e insomma ci ha coinvolti nello stesso progetto. Io ho convissuto per poco tempo con una famiglia che era stata ospitata dalla Papa Giovanni e che è arrivata qua con i corridoi umanitari di Operazione Colomba e come ci si relaziona una famiglia, quindi giochi con i bambini e si cerca il più possibile di interagire, quindi di scambiarsi esperienze di vita, cercare di imparare qualche parola di arabo e di insegnare qualche parola in italiano. In quest'ultimo periodo Assad non si sta più occupando del popolo siriano ed è in balia degli eventi della Russia, dell'Iran, dell'America, della Francia e di tutti gli stati che intervengono, della Turchia e tutti gli stati che intervengono in questa brutta guerra. Sono sette anni che ormai c'è la guerra in Siria e noi crediamo che anche qui in Occidente bisogna occuparsi di questa cosa qui. perché anche se si è indifferenti, comunque le concause le viviamo, perché tantissimi profughi sono partiti dalla Siria e sono arrivati qui in Europa. Allora noi vogliamo che la pace si costruisca sia qui in questi territori e quindi organizzare un'accoglienza degna per queste persone e sia in Siria, perché è giusto che i siriani vivano in pace, vivano con dignità, vivano in democrazia. Io sono stata in Libano nei campi profughi siriani che si trovano al confine nord del Libano l'estate scorsa, sono stata la quasi 20 giorni, è stato molto intenso comunque perché sei immerso nella quotidianità che si vive appunto in un campo profughi al confine con la Siria. Quindi situazioni molto forti, tanti racconti legati al conflitto siriano e le violenze che le persone hanno subito e poi tutta la situazione legata ai bisogni che vivono in Libano i profughi siriani dove non hanno diritto assolutamente a nulla, dalla sanità alle scuole, al lavoro e anche perché il Libano non ha firmato la convenzione per i diritti dei rifugiati. Quindi da questo punto di vista i profughi siriani noi diciamo aspirano a diventare profughi perché neppure questo gli viene riconosciuto. Avete avuto qualche difficoltà di comunicazione per esempio la lingua? Beh io faccio parte di Operazione Colomba che è il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, sono stata volontaria di lungo periodo per quasi due anni in Palestina e Israele quindi parlo tra molte virgolette arabo e questa è la ragione per cui sono andata giù l'estate scorsa per essere di supporto al gruppo di volontari che in quel momento si trovava sul campo e dove non c'era in quel momento nessuno che parlasse arabo. Per cui chiaramente da questo punto di vista ero agevolata nella comunicazione con i profughi. Poi io dico sempre quando si è in situazioni di questo tipo tanto dipende non dalla lingua che uno parla ma dalla capacità che uno ha di mettersi in gioco anche attraverso il corpo, le espressioni, gli abbracci. Ci sono tanti modi per entrare in relazione con le persone soprattutto con i bambini, questo è molto più facile. La firma che facciamo noi oggi è una firma di adesione da parte delle associazioni che hanno partecipato al coordinamento Rimini for Syria ed ha un valore simbolico. Questo non vuol dire che abbia un valore scarso perché tutto quello che si sta costruendo intorno a questa proposta di pace ha valore simbolico e attraverso queste adesioni questa popolazione che si muove intorno alla proposta di pace, intorno ai profughi siriani si riesce a creare una massa critica, una massa di persone che vogliono dare voce ai civili siriani ma che per forza di cose non può essere formale perché non viene da un'istituzione formale ma viene da dei civili che si sono ritrovati profughi non riconosciuti in territorio libanese ed è quindi un grido, non è un documento ufficiale. Quindi le associazioni che fanno parte di Rimini for Syria che rappresentano una parte molto importante della società civile per esempio di Rimini perché sono 19 e quelle che firmeranno certificano in questo modo, in modo simbolico davanti alla cittadinanza, davanti ai propri iscritti e davanti a tutte le persone che guarderanno le riprese, le foto che faremo di questo evento certificano il loro impegno e il loro sostegno a questa proposta di pace. Non saremo noi a determinare la pace, questo è sicuro, ne siamo consapevoli. Noi mettiamo i nostri mattoncini, le nostre mattonelle.